Ci saranno una casa della musica, uno spazio espositivo per la fabbrica del carnevale, ma anche gli uffici e un parcheggio per le biciclette. Italo Rota, architetto e designer famoso in tutto il mondo, ha svelato a 200 fanesi le prime immagini del progetto surriuso del Sant'Arcangelo, il complesso di Corso Mattiotti che potrà trasformarsi in un luogo unico e originale rispettando l'identità fanese. Durante l'incontro pubblico avvenuto sabato alla palestra a Venturini sono stati proiettati su uno schermo progetti, spunti e idee sul recupero del complesso che ora è in uno stato di semidegrado. Italo Rota, pennarello alla mano, ha tracciato le linee guida del nuovo Sant'Arcangelo. Intatta la facciata esposta su Corso Mattiotti, stravolto l'interno, nessun potenziamento dell'aria esterna e un obiettivo, quello di fondere gli elementi principali di Fano, e cioè carnevale, jazz ed eccellenze no gastronomiche, in un unico spazio. Tra le idee più radicali c'è quella che prende in prestito l'ordine gigante di Vitruvio e che prevede un'enorme altezza, una vertigine, al centro dello spazio museale. In progetto c'è quindi un'area dove i montacarichi riescano ad allacciare le peculiarità e servire lavoratori e visitatori che animeranno la fabbrica del carnevale. Tutto come se fosse presente un pifferaio magico. All'interno di questo laboratorio della creatività che verrà sprigionato dalla musica, che sarà ovunque dal carnevale che farà da tessuto connettivo. Un luogo quindi in cui escorgere qua e là parti dei carri allegorici da osservare anche in sella la propria bicicletta. Per il mezzo ecologico Rota è infatti pensato a un ingresso specifico e su misura dedicato alle due ruote. E poi il risparmio come l'eliminazione dell'energia elettrica anche all'interno del ristorante che sarà posizionato nella struttura e che utilizzerà le piante coltivate nell'orto dedicato. Non ci deve essere nulla di simile, ha detto Rota riferendosi all'intero progetto. Solo così ce la faremo. Ma ora tutta l'attenzione degli amministratori fanesi è rivolta al 31 marzo, data in cui scadrà il bando destinato agli investimenti territoriali integrati e che potrebbe assegnare 2.400.000 euro al Comune di Fano.